buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a introdurre Wombat Exchange costruito sulla Binance Smart Chain è uno stable swap che consente uno swap ovviamente di stable coin con uno slippage veramente minimo multi chain e permette anche lo staking di stable coin ma prima di andare a vedere questo stable swap vi invito a supportare il mio lavoro con un'iscrizione al canale qualora non l'abbiate ancora fatto e se volete aiutarmi nella diffusione dei miei contenuti lasciatemi un like e commentate i miei video ed ora andiamo a vedere che cos'è Wombat Exchange la pagina ufficiale di Wombat raggiungibile all'indirizzo Wombat.exchange ma prima di adentrarci nell'applicazione andiamo per un attimo a vedere su Twitter i follower sono oltre 70.800 per quanto riguarda l'account Telegram attualmente a 15.093 membri al momento in cui sto registrando il video. Come possiamo vedere dalla home page Wombat è accelerato da Binance Lab e se andiamo successivamente a guardare gli investitori troviamo Animoca Brand, Hailstone Venture, Shima Capital, ovviamente Binance Lab, Binab Chain e tantissimi altri nomi noti nel settore. Per quanto riguarda il team vi invito come sempre andare a cercare le vostre informazioni sull'esistenza e la veridicità del loro curriculum. Anche se Binance insieme al suo incubatore acceleratore Binance Lab hanno effettuato un investimento e una partnership su Wombat è sempre meglio andare a verificare con i propri occhi. Ovviamente sono stati auditati, potete andare a verificare tutti gli audit, bug bounty, le assicurazioni eventualmente che hanno all'interno del loro exchange, trovate tutte queste informazioni nella sezione documenti. Per poter interagire con questo exchange bisogna aver settato un wallet non custodia debitamente sulla BNB Chain come ad esempio il classico Metamask. Se non conoscete Metamask e non sapete come connetterlo alla BNB Chain trovate nelle playlist corso blockchain e criptovalute diversi video dedicati appunto a questo portafoglio non custodial. Attualmente è stato lanciato da veramente poco tempo, supporta la BNB Chain ma poi essendo uno stable swap multicatena supporterà altre chain. Quindi detenendo BUSD o un altro stable coin lo possiamo suappare all'interno di Wombat con uno slippage veramente basso. Facendo una stimolazione andando a sua pare 5 BUSD si va a ricevere in questo caso Tether 4.99. Un BSD uguale 0,99 USDT con una FI minore dello 0,01 centesimo di USDT e un price impact minore dello 0,1%. Cliccando sul menu a tendina potete vedere quali stable coin attualmente supporta. Andando dalla parte più succosa le pool noi andando a fornire liquidità allo stable swap riceviamo degli LP token e possiamo andare a mettere a rendita le nostre coin. Ad esempio volendo andare a mettere a rendita i nostri BUSD al 6,39% cosa si fa? Se clicca su BSD si deve aggiungere liquidità quindi noi andiamo a depositare il nostro quantitativo di BUSD, approviamo il contratto, ci vengono elargiti gli LP token alla prova della nostra fornitura di liquidità e andiamo a depositare in stake. E in questo caso andremo a ottenere la nostra rendita del 6,39% variabile. Ovviamente lo swap ha anche un token utility, il token Wombat, che possiamo andare anche qui a fornire come liquidità e andare a guadagnare un EPR del 120% o addirittura 244% variabile. Questi interessi scenderanno molto presto con l'aumentare dall'acquidità, è una sorta di promozione per far conoscere la piattaforma e far prendere possesso e liquidità del token. Token che ha funzionalità di utility e governance e funziona per avere degli incentivi sui nostri interessi e dei BUSD. Ad esempio cliccando su BUSD noi possiamo andare a bloccare i nostri token WOM, ad esempio 1000 token, per un periodo di tempo variabile a seconda delle nostre esigenze per andare a ottenere WOM. E se andiamo al booster calculator, supponiamo di aver depositato BSD con un deposito di 1000 token, aver bloccato 1000 WOM per un periodo di 30 giorni, andremo a ottenere 140 WOM con un incremento del 3,54% sul nostro deposito. Detto il token funziona anche come incentivo per la fornitura di liquidità, infatti andando a fornire liquidità noi andremo a ottenere come interesse il token WOM. Per quanto riguarda le fee sono competitive comunque vi invito a leggere i documenti inerenti che trovate nella home page nella sezione DOCS per andare a visionare le fee in autonomia. Vi invito inoltre se non avete tanta praticità con gli swap, i liquidity pool, gli LP token, a depositare solo una piccola quantitativa di token magari per impratichirvi per usare questo swap come scuola e non come vero e proprio swap di rendita al momento. Ovviamente ripeto questo è un consiglio ai nuovi utenti che magari vedono uno swap per la prima volta una liquidity pool e non sanno come districarsi e prima di addentrarsi con grosse cifre e magari compiere degli errori o rimanere bloccati in qualche modo utilizzate piccole cifre usateli come se fossero spesi per effettuare un corso col vantaggio che è un corso pratico su voi stessi quindi quel pochi dollari che potete utilizzare imparerete sicuramente qualcosa. Bloccando i WOM token per un periodo di tempo prestabilito e approvando ovviamente il contratto non si potrà riavere il possesso dei token fino alla scadenza del contratto. Una volta che il contratto sarà scaduto se non ritiriamo i token continueremo ad avere il boost degli interessi qualora poi prelevassimo tutto il nostro montare che avevamo precedentemente ha bloccato cesserà anche il boost. Bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento spero che il video vi sia piaciuto che l'abbiate trovato utile ed interessante vi invito inoltre come ho fatto in apertura a contribuire al mio lavoro con un iscrizione al canale lasciandomi un like attivando la campanellina vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo presto ciao a tutti